Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di sabato lungo la provinciale che collega Borgagni a Sant'Andrea, in agro di Melendugno. Un uomo di 53 anni, Adriano Zuccariello di Martano, è deceduto. La sua compagna invece è gravemente ferita e trasportata immediatamente all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Lo schianto è avvenuto tra la moto dell'uomo, una Ducati, che procedeva verso l'entoterra, a bordo della quale si trovavano la vittima e la sua compagna, e un'auto, una Fiat Punto, condotta da una donna di Carpignano-Salentino, trasportata invece in ospedale a Scorrano con lievi ferita. Ancora poco chiare le cause dell'incidente, probabilmente un errore di impostazione della curva che era presente nei pressi del luogo dell'impatto. Ancora una volta le strade del Salento in estate sono costrette a registrare la morte di una persona. Questa volta però non c'è di mezzo il buio o la notte, ma probabilmente una disattenzione alla guida su un'arteria poco trafficata. Borgagne è una frazione di appena 2000 abitanti e quella strada collega in maniera quasi esclusiva il piccolo borgo alla Marina di Sant'Andrea. Un richiamo, quello a parte le forze dell'ordine, costante della massima attenzione alla guida per evitare ancora di registrare tragedie come questa.